Saluti da Serie A Eccoli qua Sei smonato? Guarda che c'è il riscaldamento del campione da fare, non ricorda? C'è un nuovo esercizio oggi, lo aspettiamo tutti Eccolo, eccolo Caro Giovanni, caro Giovanni Torna Carrie, torna Sacrificio Carrie, un sacrificio Bravo Apri i manzi, apri i manzi Bravo, bravo Bravo Ma ho sentito un wow, un wow manzi No, ho sentito un wow manzi No, ho sentito un wow manzi Wow Ti ho riconoscito subito Subito Del più terribili raccolti Dai quei tre magici Tre uno Farmi throw Oh L'ottimo serve L'ottimo serve Oh no Oh no Oh no Siamo in bolla Siamo in bolla No no, siamo in bolla Aspetta Colpi di testa come Eccolo lì, mamma Grigo Mamma Grigo Eccolo Bravo Finino azzurro, vediamo il prossimo Sì, che è solo per il portiere Niente Bravo 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 Senza oggi è sotto tono Sarà perché non ci ha regalato Mamma Grigo Mamma Grigo Sei finito Chiudila 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 Bravo Sì, Bigno Gli aiuto allenatore assegnato Grande, Bigno Tutto per Zanella E per Cesco Ciao Massi No, più bene Sì, carri E' bellissimo Che bella Senti del mio Oh 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 Vai Bravo Carri Buon Carri, è fuori questo eh Arbitro Hai fatto le mie mosse a portarvi agli uomo Bravo Carri, fuori io adesso Via Hai persi un caffè Alberto Vai Roby Eccolo lì che va lui Vai solo Roby Sì Roby Sì Roby Sì Roby Mamma che bella Mamma che bella Mamma Bravi bravi Roby Mamma mia Mamma 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 C'è Mamma Mamma che azione, mamma che azione, ma cosa stiamo, ma di cosa stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, di cosa bravissimi, panchina in piedi, applausi, carri uomo di giornata, eccoli, basta, basta, bravo, bravo, gli è bastato, gli sono bastati due minuti per capire tutto questo, perché cosa, gli sono tutti, mamma mia, questi ragazzi, sono un po' tutto, Stai, 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 bravi, 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 bra eeeh, dopo vado a sfruttarmi mamma Grigo ma che tanto ha fatto dai 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 si che te l'ho da un'altra vai ZOO stai lì stai lì la pipignecca la pipignecca la pipignecca c'è lì accesa durerà altri 5 secondi eeeh informiamo informiamo i tifosi che la batteria sta andando a fruttane per cui salutiamo i nostri amici eeeh la regina Elisabetta eeeh eeeh 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6